perfetto andiamo inizia jack boy o un nuovo strumento adesso sono troppo curioso momento giusto per un altro gadget sì con questo no oddio fichissimo controllo dei nemici come dico vista c'è devo attaccarlo da dietro porca trota ah devo fermarlo in tempo non ho visto ho capito sarò scemo non ho detto cosa c'era scritto da sopra no posso anche sparare e questo mi attiva questo è esatto se sparo mi uccido da solo bastardo devo tenere premuto sempre alle due ecco a cosa servivano qualcosi se grazie sono un genio lo sapevo tu entri qui grazie e mo che mira in alto io ti passo sotto no sono scemo ok ce l'ho fatta finalmente oddio un nuovo gadget dopo tre ore ho capito come si faceva allora prima fa è come il salto gonfiabile così oh ce l'ho fatta e di là cosa c'è scusa ah è per tornare giù ok oh fermo stiamo buoni non facciamo cagate jack boy oggi ero felice poi sei arrivato tu sono morto perché mi sono messo a legge ciao scemo e com'è allora con calma ok si ferma quando lo faccio e da che parte devo mandarti scusa devo farti morire ah tu non muori fantastico e ok va spostandosi ok allora mentre si muove ok ok oddio non pensi che a te che a te cosa tutto quello che abbiamo fatto per te porca troia ok credi forse che non resta un però parli sempre cazzo ok pronti cazzo 3 2 1 via fermo qui poi mi butto andiamo avanti con questo e ritorniamo indietro ok eppure osi sfidarmi e per forza oh cazzo non si spara mi sono ucciso da solo no scusa non mi dovresti aiutato non posso neanche salirci non posso neanche salirci ok si jackboy e tu perchè non lo ammazzi ne avete visto vero ok le sfide le ho evitati per ora quella è una trappola vero no ok uff eh ho visto che sono andato male mi piace si sta facendo difficile sempre 0 secondi gli altri problema che adesso si è fatto difficile anche questo stanno diventando dei puzzle anche il fuori oltre il test oh cazzo tu mi stai prendendo per il culo dai ora lavorerò con i nuovi cloni domani eh si però se mi impegno a leggere magari non vado avanti dovevo scendere? no spavento ok questo l'ho chiuso comunque se le rimetto non so quanto mi sia conveniente ma sto tornando sopra io si sta ritornando io ah vuoi vedere che devo andare di la? si infatti questa zona non l'ho mai esplorata si infatti questa zona non l'ho mai esplorata non so quel quadrato aspetta che ho capito forse o oh no 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 ah mi mi mimetizzo io sono una scatola E' fichissimo No Forse devo fare così Aspetta Ho la sensazione che andrà bene Cosa Ma cosa mi dice che sarai lui L'ultimo Forse che sarà l'ultimo Ho letto male Andiamo